Caro imprenditore, mettiti comodo perché in questo video avrai un assaggio dei contenuti presenti nel circolo degli imprenditori. Fino a questo momento hai creduto che nella vendita la differenza la facesse solo un bravo venditore e il suo prodotto, ignorando la potenza dello script. Frank Marenda, esperto di marketing numero uno in Europa, è pronto a mostrarti una via che non conosci, quella di una vendita sempre uguale a se stessa, ma in grado di portare i risultati straordinari. Ti senti pronto? Quindi, i soldi sono nel processo di vendita. Questa è la parte importante. Dove si trovano i soldi? Oltre che nell'andare a lavorare. Quando ci siamo messi da qui, parte 1, ci dobbiamo mettere d'accordo che bisogna andare a lavorare. Una volta che ci siamo messi d'accordo, se vi devo motivare ad andare a lavorare abbiamo un problema, nel senso io non mi faccio un motivatore, bisogna che ci mettiamo d'accordo. I soldi sono nel processo di vendita. Che cosa vuol dire? Quali sono i concetti chiave? Uno, se tu rimuovi le variabili, automaticamente genererai più denaro e più fatturato. Devi rimuovere le variabili dal processo di vendita. Più variabili ci sono, meno soldi ci sono dietro le trattative. Meno segui uno script per le telefonate, meno riuscirai a monitorarle, incrementarle, superare le obiezioni, capire di cosa stai parlando e perfezionare lo stile della tua telefonata. Perché parli a casaccio, tu non ti senti, ma se uno ti sentisse da fuori, ogni telefonata ha un tono diverso, dici cose completamente diverse. Non c'è modo di monitorare niente. Quindi più improvvisi, meno c'è denaro là dietro. Più la trattativa la fai a braccio, meno fai domande intelligenti, meno ricavi informazioni intelligenti dal cliente, meno riesci a dare feedback intelligenti al cliente, più vai direttamente, non ce la fai, vai direttamente, lasci che la trattativa, non è una trattativa, è un dialogo con una persona a braccio dove a un certo momento, dopo aver detto qualche stronzata e un po' di familiarizzazione su argomenti più del meno, poi dopo un po' la butti sul prodotto. Quel lavoro lì non è una trattativa. Io capisco che per te sia anche piacevole perché ti fa venire meno l'ansia, perché tanto lasci condurre più o meno la comunicazione al cliente, gli stai un po' dietro, parli un po' della gnocca, un po' del mio, un po' di quello. Io capisco, è certo che è più facile, è rilassante, perché non c'è nessun impegno nel dover seguire a braccio il flusso della comunità, sai parlare, Dio ti ha donato la parola, stai parlando con uno. Chiaramente non ti fa venire l'ansia quella roba lì, poi a un certo momento gli butti l'offerta. Ma quello non è vendere, vendere è seguire uno script. C'è un metodo, c'è un treno, c'è una lista di domande e devi lavorare così. Ma mi sento un po' a disagio, certo perché non l'hai mai fatto e sei a disagio a fare qualunque cosa che non hai mai fatto. Quindi stranamente devi impegnarti per superare quella soglia di disagio iniziale. Alcune volte addirittura, ragazzi, funziona così, nel senso, guardate, tutte le volte che io faccio approcciare una persona nuova alla vendita, allora, ci sono due casi possibili, il caso fortunato e il caso sfortunato. Il caso completamente fortunato, che ci sta capitando proprio tra l'altro anche in questi giorni, stiamo inserendo nuove persone in molte aziende, è la persona che comincia da zero, non ha mai venduto, un ragazzo che inseriamo, questo non sa niente né del prodotto né del servizio, quindi io gli insegno la procedura, questa è la telefonata, questo è il questionario, così si fanno le domande, devi rispondere così, la persona va stranamente, i clienti vengono a casa, perché non sa niente, non obietta, ok? E quindi applica immediatamente il metodo ed è facile. Poi ho invece la persona che è convinta che, perché ha sempre mangiato facendo le cose a casaccio, quindi ha questa convinzione malata che quello è il modo di fare le cose, non è il modo di fare le cose, quello è un modo sbagliato che comunque ti permette di sopravvivere, perché la concorrenza più o meno a quel livello lì, ma non ti permette di ottenere veramente successo. E quindi cosa accade? Accade che io prendo una persona che ha il suo stile dialogoso, tra virgolette, di gestire la vendita e a un certo momento gli metto un paletto, gli dico vecchio devi cominciare a seguire il questionario, devi leggere le domande, le devi leggere esattamente come sono scritte, non devi interpretarla, se l'ho scritta così è perché c'è un modo, se c'è scritto quando significa che se chiedi perché non è la stessa cosa perché cambi il senso della domanda. Quindi la persona sente questa stretta al culo, cioè pensa che io lo stia costringendo all'interno di qualcosa, e la mette in difficoltà, certo perché ti sto obbligando in realtà a stare davanti al cliente, a fronteggiare il cliente, quindi devi fare le domande, devi avere il giusto tono, devi avere la giusta presenza, devi avere la giusta determinazione, devi parlare con il cliente in una certa maniera. Ti sto forzando a fare cose che non sei capace a fare, per quello ti viene male. Perché? Perché se devi parlare e parlare, ma fare una trattativa e fare una diagnosi è un altro lavoro. E quindi cosa succede? Succede che a un certo momento la persona fa così, cioè i risultati in realtà apparentemente, da un certo momento in avanti, tendono a peggiorare. Perché? Perché io ti forzo a fare una cosa che per te è nuova e all'inizio è innaturale, quindi c'è una curva di peggioramento dei risultati. peggioramento dei risultati. Allora, qui ci sono due possibilità. La prima è una possibilità di rottura, cioè la persona si caga addosso, interrompe questa cosa, torna verso l'alto e torna a galleggiare tutta la vita come faceva prima, al livello di prima, cioè ritorna a fare le cose a braccio, dice no, mi sento male, non riesco, non sono spontaneo, perché? Come se fosse la prima volta che sento queste stronzate. Quindi la persona smette di forzarsi ad applicare il metodo e torna a fare le stronzate che faceva prima e tutta la vita continuerà a galleggiare facendo che tu abbia fatto i miei corsi, non abbia fatto i miei corsi, non è importante, semplicemente qualunque metodo, non sono io, qualunque metodo è meglio di nessun metodo, è meglio che le trattative a braccio. Oppure c'è che la persona tiene duro e quindi comincia a prendere confidenza con il metodo, comincia ad essere sempre più spontaneo, sempre più lucido, sempre più proprio spontaneo all'interno della telefonata, all'interno della trattativa, le domande ti vengono meglio, sei più fluido, ok? Quindi improvvisamente c'è una curva di risultati che torna verso l'alto e poi esplode. Quindi c'è una fase di inconsapevolezza, c'è una fase nella quale io divento consapevole dei miei limiti perché comincio a vedere che applicando un metodo è tosta fare il venditore per davvero, però non mollo, capisco che la voglio prendere sul serio la mia vita, voglio veramente il successo e quindi applico il metodo e comincio ad applicarlo e continuo a applicarlo finché non divento un maestro, non mi cago addosso e dico no, torno nella mia zona di comfort e torno a fare quello che facevo prima perché non mi sento meglio. Dice cazzo, mi rendo conto che sono una pippa al sugo e che la mia attività è a rischio se continuo a fare quello che facevo prima. Quindi mi violento nell'apprendere veramente il metodo e cambio la mia attività lavorativa fino a che il metodo mi porta risultati straordinari che senza non avrei mai potuto ottenere. Perché un conto è conoscere vagamente i concetti che io spiego, un conto è saperli applicare in trattativa perché hai fatto le domande giuste, hai dato il feedback giusto, hai fatto l'analisi giusta pezzo per pezzo e non ti sembra di aver percepito, ma conosci veramente, da conoscere veramente il metodo, applicarlo veramente a what's allah, what's allah, ecco what's allah, così così. Fare esattamente quello che ti dico e c'è qualche zero in più attaccato. Poi ti va bene la tua vita, stai bene così, io non voglio criticare, io sto semplicemente parlando come si ottiene il successo. Se non ti interessa, non è una cosa personale, non è che la prendo sul personale, però qui si parla di come si ottiene un successo enorme nel fare le cose. Un successo enorme nel fare le cose si ottiene nell'applicazione del metodo fatto nella maniera corretta. Quindi, più il tuo lavoro e la tua giornata si basano su processi, più fatturato produrrai per te e per l'azienda. Processi. Processi macro e processi micro. Il come si legge uno script è un processo micro, il come si legge un questionario, come si interpreta un questionario è un processo micro, il come si gestisce le attività da svolgere per fascia oraria, quello è un processo macro, quindi c'è un organizzazione, quindi c'è un processo di gestione e organizzazione della giornata, un benchmark, come direbbe il nonno, e poi ci sono i processi anche all'interno di quelle attività, cioè il come si svolge quell'attività, quindi c'è un processo di attività e c'è un processo di come si svolge quell'attività. Più ragazzi lavori in termini di processo, più ti fai ricco. Più apri la serranda mentale, la fisica o mentale la mattina e vedi che cosa succede, più i soldi faranno estremamente fatica ad arrivare. Qualunque impresa ragazzi si gestisce così, non è un problema di dire il mio settore, ma non c'è nessun settore, c'è niente. Le persone povere lavorano, poco o tanto, a seconda se hanno voglia o non hanno voglia. I ricchi possiedono processi. Un venditore che guadagna veramente un botto è un venditore che applica un processo, possiede un processo e lo applica. Poi mano a mano un imprenditore che possiede i processi e li delega alle persone si fa ricco. Poveri sono gente che lavora poco, poca voglia di lavorare, o gente anche con tanta buona volontà, che però fa le cose a braccio e non va mai a lavorare in termini di processi e quindi non può analizzare, quindi non può migliorare quello che fa. Sei costretto a rimanere mediocre, che non è un'offesa, è che non c'è modo. Non c'è modo. Non c'è modo. Quindi il sistema più affidabile per vendere è monotono. Non c'è niente di eccitante nel fare un sacco di soldi. Fare soldi è una cosa noiosissima, in realtà. È una cosa noiosa. Fare soldi è ripetitivo. È un insieme di macroattività distribuite durante il giorno con una serie di microattività e di processi per come si devono svolgere quelle attività. È noiosissimo. Tutti i giorni sempre lo stesso script per fare la telefonata, tutta la vita. Sempre quello. Il questionario è quello. Lo devi fare tu. È sempre uguale. Non cambia. È noiosissimo. È noiosissimo. Più è noioso, più ci sono soldi attaccati nel processo. Più hai la imprenditorialità creativa, meno... Cosa c'è di creativo dentro un McDonald's, ragazzi? Meno di zero. È. Nella vendita è uguale. È uguale. Perché McDonald's è vendita. Standardizzata, processi. Tutto lì. Tutto lì. Non c'è niente di improvvisato, c'è niente di creatività. È un insieme di processi che mungono e producono fatturato. Basta. La maggior perdita di denaro per un'azienda, ragazzi, non è causata né dalla crisi né dalla concorrenza, ma è causata dalla mancanza di processi di vendita rispettati alla lettera. Quello che non state guadagnando non è dovuto alla crisi, non è dovuto ai clienti stronzi, non è dovuto a niente di esterno. È dovuto a quanto poco state rispettando il processo di vendita alla lettera. Dalla pianificazione giornaliera delle attività che dovrebbero produrre, al come le eseguo attraverso gli strumenti che ci servono, che sono script, che sono questionari e tutto il resto. Quindi la concorrenza con il vostro mancato fatturato non c'entra niente. Non c'entra niente nella concorrenza, non c'entra niente nel mercato, non c'entrano i clienti, non c'entra la crisi. C'entra quanto poco sto applicando il processo di vendita corretto. Tutto lì. Tutto lì. Niente di diverso. Puoi scoprire la versione integrale di questa lezione e di tantissimi altri contenuti utili all'interno del circolo degli imprenditori. Il club esclusivo di Frank Marenda, creato per tutti gli imprenditori che vogliono raggiungere il successo con la propria azienda. Clicca sul link in descrizione per saperne di più e approfittare dell'offerta a te dedicata. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai bravo, iscriviti ora!